Lungomare di Ostia letteralmente allagato ieri in 8 novembre 2021 che vi ricordo è una delle parti forse anche più suggestive di Ostia ovviamente nel periodo estivo Il lungomare insomma è andato ad allagarsi completamente un problema questo che è di vecchia matrice infatti è un problema annoso, duro da estirpare e è un problema veramente brutto, ostico per chi ci abita e per chi abita qui nel ritorale romano In quest'ora di tempo vi ricordo che nel territorio di Roma sono cadute un sacco di acqua il tratto di lungomare si è allagato, ha causato enormi disagi sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda chi si doveva spostare quindi anche per chi si trova a livello logistico a muoversi le immagini sono veramente devastanti, mostrano una gran quantità di acqua che vada allagare letteralmente anche le fermate degli autobus vi ricordo che sul lungomare affalciano diverse pensiline con diverse fermate dell'autobus e ovviamente chi doveva prendere l'autobusieri in quest'ora di tempo ha preferito ovviamente non poterlo, ha preferito non prenderlo perché ripeto era tutto allagato insomma una vicenda questa devastante, triste, aberrante, assurda e ovviamente che ha creato delle ripercussioni sulla viabilità e quindi per chi doveva spostarsi a livello logistico vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di youtube iscrivetevi, mi raccomando, commentate ciao a tutti e al prossimo video